In questo video tutorial prenderemo in esame due modifiche appena introdotte ai criteri riunione del profilo docenti. Ho già pronta una riunione per scopi dimostrativi, partecipo, entro all'interno della riunione e prendiamo in esame la prima delle modifiche introdotte. Vado sul menu azioni della riunione, caratterizzato dai tre puntini, e seleziono opzioni riunione. Quello che noto subito è che l'opzione chi può essere un relatore è automaticamente impostata sul solo io. Solo io significa soltanto il creatore della riunione è automaticamente relatore. In precedenza, quest'opzione era per default impostata su tutti. Qual è la conseguenza di questa modifica? Se seleziono la scheda partecipanti, vedo che all'interno della mia riunione sono già presenti due studenti. I due studenti entrano appunto come partecipanti, quindi non possono disattivare il microfono degli altri partecipanti, non possono mettere in evidenza il video dei compagni, non possono avviare una registrazione. Tutte operazioni che da più parti sono state segnalate nell'ultimo periodo come elementi di disturbo alla lezione. Quindi questa possibilità è automaticamente negata ai partecipanti. Adesso però, se io ho necessità di dare la possibilità a uno studente di condividere il proprio desktop per esporre un qualsiasi argomento, magari durante una verifica, questa possibilità comunque resta valida. Vado sul menu azioni dello studente a cui io intendo dare la possibilità di condividere il proprio desktop, clicco sui tre puntini e lo imposto come relatore. A questo punto gli cambio lo status, per cui lui passa dalla lista dei partecipanti alla lista dei relatori. In questo momento quello specifico studente può condividere il desktop, può prendere la parola, può fare tutto quello che normalmente riesce a fare un relatore. Completata la presentazione da parte dello studente, ritorno sul menu contestuale e lo riporto allo status di partecipante, cliccando Imposta come partecipante. Gli cambio lo status e quindi lo studente passa dalla lista dei relatori alla lista dei partecipanti. Questo per quanto riguarda la prima modifica introdotta. Relativamente alla seconda modifica, se vado sul menu Altre azioni della scheda partecipanti, sono questi tre puntini a fianco al titolo partecipanti, trovo un'opzione che in precedenza non era disponibile, ovvero sia Scarica elenco partecipanti. Per vedere l'efficacia dell'elenco partecipanti, simulo l'uscita di uno studente dalla lezione, quindi lo studente prova in questo momento è uscito dalla lezione, e simulo anche l'uscita dello studente prova 2 dalla lezione, qualche secondo. Adesso lo studente prova 1 rientra, così come faccio rientrare anche lo studente prova 2. Cosa succede? All'elenco dei partecipanti. Questo elenco dei partecipanti fa una fotografia di tutto quello che è successo durante la riunione, dall'istante in cui io, che sono l'organizzatore, mi sono collegato, fino all'istante in cui lo vado a scaricare. Quindi faccio Scarica elenco partecipanti, qualche secondo per completare il download, questo file dove lo ritrovo? Lo ritrovo all'interno della cartella download del mio sistema operativo. Il nome è in inglese Meeting Attendance List, che significa esattamente elenco dei partecipanti alla riunione, ed è in formato CSV. È un formato particolare, ma si tratta comunque di un file testo che io posso aprire con un qualsiasi editor testo a, ad esempio con il Notepad, oppure posso aprirlo con Excel. Di default questa tipologia di file viene abbinata ad Excel, se Excel è installato sulla propria macchina. Ma se non dovessimo avere Excel, si può aprire come abbiamo già visto con il Notepad o anche con Word al limite. Per cui io vedo tutte le attività che sono state fatte dal singolo utente. Nella prima colonna ho nome e cognome. Nella seconda colonna ho l'azione che è stata compiuta. Sono soltanto due le azioni che vengono tracciate. Quindi non ci si può aspettare che vengano riportate altre informazioni se non l'istante in cui il singolo utente si è aggiunto alla riunione e l'istante in cui il singolo utente ha abbandonato la riunione. Ovviamente ogni volta che qualcuno si aggiunge oppure abbandona la riunione viene tracciata la data ora e quindi possiamo avere un report completo di quello che è avvenuto durante la riunione. Un'ultima considerazione riguarda la tempistica con cui questo elenco risulta essere disponibile. Cioè se io che sono l'organizzatore abbandono e poi rientro e anche gli studenti abbandonano quindi in definitiva viene chiusa la riunione se io avessi necessità di recuperare l'elenco dei partecipanti in un momento successivo questa possibilità è andata persa per cui bisogna sempre ricordarsi che se ho necessità di avere l'elenco dei partecipanti lo devo scaricare prima di chiudere la riunione. Relativamente alla privacy questo elenco, scarica elenco dei partecipanti l'ho già detto ma lo sottolineo ancora è disponibile soltanto per chi ha creato materialmente la riunione per cui il docente che ha creato la riunione può scaricarsi l'elenco dei partecipanti tutto il resto dei partecipanti non ha questa disponibilità. Grazie. Grazie. Grazie.